la mia pittura si basa su una continua ricerca di emozioni situazioni e momenti durante percorso della mia vita la pittura la paragono a un viaggio ogni viaggio a un itinerario per arrivare alla meta ma alle volte durante il viaggio vi sono degli ostacoli bisognerebbe saper oltrepassare questi ostacoli è esattamente lo stesso durante il processo di pittura su un quadro improvvisare nei momenti in cui credi che un quadro non sia riuscito come ti avevi prefisso importante è sempre arrivare alla meta riflettendo e con un obiettivo in mente esploro i propri limiti ricercando nuove direzioni e spazi i colori che risvegliano in me i sentimenti e memorie vissute mi guidano i toni del grigio mi aiutano a dividere o unire le sfumature in modo chiaro così prosegue il mio viaggio continua a dipingere sperando di raggiungere quell'obiettivo che si trova ancora di fronte a me piano piano la tela assume colore e così si svela un nuovo percorso grazie per la visione